Benvenuti amici appassionati, io sono Enzo e questo è Naxos Flow Racing. Dopo le precedenti edizioni, quella del Lussemburgo nel 2014 e quella della Repubblica cieca nel 2016, finalmente è arrivato il momento di parlarne. Il Master 2018 in Italia sta per iniziare e si discuterà a gubbio. Ma andiamo per ordine. Ma cos'è il Master? Domanda ovvia per tanti ma non per tutti, quindi spieghiamola ai profani. Avete presente gli europei di calcio? Il principio è lo stesso, però applicato alle cronoscavate. Al Master ci saranno infatti 20 nazioni europee, che porteranno sul percorso i migliori piloti del continente. Saranno 4 i piloti che ogni nazione potrà mettere in campo per tentare di portare a casa la vittoria squadra, che si conquisterà non con i tempi migliori, ma con gli scarti più ridotti tra una salita e l'altra. Vi lascio nella descrizione del video la classifica del Master di due anni fa. Andate a vederla e capirete subito come funziona. Per quanto riguarda la vittoria assoluta della manifestazione bisognerà semplicemente darci il gas e tentare di ottenere il miglior crono della giornata. Ma prima vediamo come partecipare. Il Master innanzitutto è una gara di invidi, quindi non ci sono costi di iscrizione. Per iscriversi basta contattare il capitano della nazionale italiana, che nella fattispecie è Fiorenzo Dalmeri. Vi lascio qui e nella descrizione del video tutti i suoi contatti. Una volta inviata la vostra richiesta di iscrizione non vi resta che aspettare e vedere se siete stati ammessi o meno. Ovviamente avranno la precedenza i piloti con il maggior numero di titoli conseguiti. I piloti di ogni nazionale saranno 4, quindi se non ho fatto male i conti 4x20 fa 80 e visto che i posti disponibili sono 160 potete tranquillamente inviare la vostra richiesta e sperare di avere accesso a quello che sarà sicuramente l'evento dell'anno. Si inizierà il venerdì con le verifiche tecniche e sportive che dovranno effettuare tutti i piloti, sempre al venerdì sera al centro di Gubbio ci saranno degli eventi di intrattenimento messi su dall'organizzazione dell'evento, con un'ospitality dedicata esclusivamente ai membri della FIA. Il percorso di gara sarà accorciato a quella che è la classica lunghezza del trofeo Luigi Fagioli, infatti misurerà 3310 metri. Si partirà dal bottaccione. Proprio in partenza verrà montata una tribuna alla quale il pubblico potrà avere accesso con delle navette, che partiranno dal centro di Gubbio. Stessa cosa in zona arrivo, ci sarà infatti una navetta che vi porterà da sotto il parco chiuso sino all'arrivo, dal quale potrete godervi appieno quello che sarà lo spettacolo del Master. Si pagherà un biglietto d'ingresso del quale ancora non conosco il prezzo, ma visti gli sforzi di chi organizza l'evento sono pronto a spendere qualsiasi cifra per assistere a questo spettacolo fantastico. Ma adesso ragazzi andiamo alla ciccia. Si partirà il sabato alle 10 con le due manche di prove, che per almeno una volta tutti i concorrenti dovranno effettuare. Subito dopo la fine delle prove si darà al centro di Gubbio la sfilata di tutte le nazionali con tutti i piloti, proprio come nelle Olimpiadi. La domenica mattina si partirà con le tre manche di gara, la migliore delle quali sarà presa come tempo di riferimento per decretare quello che sarà il vincitore assoluto di questa manifestazione per quanto riguarda la gara individuale. Quindi dimenticatevi la somma dei tempi delle due manche di gara. Qui conta solo una manche, la migliore. Gli orari di partenza delle tre gare saranno le ore 9 per gara 1, le ore 12 per gara 2 e le ore 15 per gara 3. Alla fine delle tre gare ci sarà la premiazione al centro di Gubbio, nella quale verranno suonati gli inni nazionali delle squadre private e verranno assegnate le medaglie. Inoltre verranno assegnati dei premi in denaro. Vi lascio sotto nella descrizione del video il link per andarvi a vedere il regolamento e tutti i premi in denaro che verranno assegnati. Questo del master sarà una grandissima sfida per i ragazzi del cieca, l'entre organizzatore dell'evento. A Gubbio sono stati sempre bravi ad organizzare la gara, ma qui non c'è soltanto da organizzare una gara, qui c'è da mettere su un evento, con difficoltà che molti di voi non immaginano neanche. Io voglio dare il mio in bocca al lupo ai ragazzi di Gubbio che stanno organizzando questo evento che nel 2018 sarà sotto gli occhi di tutta l'Europa. Invito tutti voi a partecipare a questo fantastico evento ragazzi. A Gubbio non si può mancare. Io mi sono già organizzato e ho già prenotato il tutto per esserci. Se sei interessato, vuoi magari maggiori informazioni, fammelo sapere sotto nei commenti, sarò lieto di risponderti. Magari posso darti qualche dritta utile sul come vivere al meglio questo fantastico evento. Noi ovviamente seguiremo l'evento, ci sarà una diretta streaming con 12 telecamere. Noi ovviamente alla fine della manifestazione pubblicheremo anche i nostri video. Qualora non l'avreste ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, a condividere il video e a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Per oggi è tutto, ciao ragazzi! Ciao!